Halloween è una festa tradizionale celebrata il 31 ottobre con origini nelle culture celtiche. Si è diffusa in molte parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti. La festa è caratterizzata da costumi spaventosi, decorazioni a tema horror e il popolare dolcetto o scherzetto. Durante questa tradizione, i bambini si travestono da personaggi spaventosi o fantastici e vanno di casa in casa chiedendo dolci o minacciando scherzi. Altre attività tipiche includono intagliare zucche per creare lanterne, noti come Jack O' Lanterns, e partecipare a feste a tema horror. Halloween è anche associata a leggende e superstizioni legate all'aldilà, ai fantasmi e ai mostri. La festa combina elementi di divertimento, creatività e superstizione ed è un'occasione per la gente di tutte le età di celebrare il lato misterioso e spaventoso della vita.